salve a tutti carissimi bentornati in questo nostro spazio sabato mattina 5 marzo 2022 questa è la rubrica 5 minuti oltre le nuvole e credo spero almeno che lo sentiate anche voi un tremendo desiderio di andare al di là delle nuvole della follia di questi ultimi giorni di queste ultime settimane senza poi parlare della follia degli ultimi anni va bene ma allora cerchiamo di farlo cerchiamo di andare oltre le nuvole dove il cielo è più puro più limpido più onesto un cielo della nostra coscienza tremendamente onesto e allora ho pensato cosa posso leggervi posso solo leggervi parole che nascono dagli spazi più limpidi più puri della coscienza umana ed ecco che ho rispolverato questo capolavoro di testo è un diario raccoglie riflessioni pensieri ma è sbagliato dire riflessioni pensieri testimonio è una testimonianza del mondo visto attraverso una mente limpida e la testimonianza di ciò che accade nella mente nel cuore di un uomo che si è liberato dalle strutture egoiche dal ramo spurio di coscienza alla fine vi dirò dove ho preso queste parole vi darò qualche notizia in più ma adesso dopo la sigla lasciamoci condurre nel cuore di quest'uomo che è anche il nostro stesso cuore nello spazio più limpido e puro della coscienza umana sigla 23 gennaio gli alberi erano spogli ogni foglia era caduta perfino i piccoli delicati germogli si staccavano il freddo era stato troppo per essi c'erano altri alberi che conservavano le foglie ma queste non erano troppo verdi alcune si stavano scurendo era un inverno eccezionalmente freddo c'era neve alta su tutte le balze inferiori dell'himalaya neve spessa alcuni metri e nelle pianure per alcune centinaia di chilometri era freddissimo c'era uno spesso strato di ghiaccio sul terreno e i fiori non sbocciavano i prati erano bruciati c'erano alcune rose il cui colore riempiva il giardinetto insieme alle viole del pensiero gialle ma sulla strada e nei luoghi pubblici vedevi i poveri avvolti in cenci logori e sporchi con le gambe nude la testa coperta lo scuro viso appena visibile le donne avevano ogni sorta di roba colorata addosso con bracciali d'argento o un qualche ornamento attorno alle caviglie attorno ai polsi passeggiavano liberamente con naturalezza e con una certa grazia si tenevano benissimo molti di loro erano lavoratori ma la sera quando tornavano alle loro case in realtà capanne accadeva che ridessero si stuzzicassero a vicenda e i giovani gridavano e ridevano molto più di quegli anziani era la fine del giorno e loro avevano lavorato duramente tutta la giornata sarebbero stati esausti molto presto e avevano costruito case uffici in cui non avrebbero mai vissuto e mai lavorato tutte le persone importanti passavano in macchina e questa povera gente non si dava mai neppure la pena di guardare chi passasse il sole stava tramontando dietro un qualche ornato edificio in una bruma che era stata nell'aria tutto il giorno non aveva alcun colore alcun calore e non c'era un fremito fra le bandiere di diversi paesi anche queste bandiere erano stanche erano semplici stracci colorati ma quale importanza avevano assunto alcuni corvi bevevano una pozzanghera e altri corvi arrivavano per avere la loro parte il cielo era pallido e pronto per la notte ogni pensiero ogni sentimento se ne erano andati e il cervello era totalmente silenzioso era passata mezzanotte non c'era alcun rumore era freddo e il chiaro di luna entrava attraverso una delle finestre tracciando un disegno sulla parete il cervello era molto sveglio vigile ma senza reazioni senza esperienze non c'era un solo movimento al suo interno ma non era insensibile o drogato dalla memoria ed improvviso quell'immensità inconoscibile fu lì non solo nella stanza e oltre ma anche in profondità nei più intimi recessi che erano una volta la mente il pensiero ha un limite prodotto da ogni genere di reazione ed ogni motivazione lo forma come accade con ogni sentimento ogni fare esperienza proviene dal passato e ogni riconoscimento proviene dal noto ma quell'immensità non lasciava segno era lì chiara forte impenetrabile inavvicinabile e la sua intensità era fuoco che non lasciava cenere con essa c'era beatitudine e anche questa non lasciava alcun ricordo poiché non c'era alcun fare esperienza di essa semplicemente era lì per venire ed andare senza ricerca e senza richiamo il passato e l'ignoto non si incontrano in nessun punto essi non possono essere collegati da nessun atto di nessun genere non c'è un ponte da attraversare né un sentiero che porti là le due cose non si sono mai incontrate e non si incontreranno mai il passato deve cessare perché l'inconoscibile perché l'immensità sia tacuino di jiddu krishnamurti vi ho letto l'ultima registrazione questo testo è una raccolta di sue registrazioni che faceva durante i suoi infiniti viaggi però nello specifico queste registrazioni partono il 18 giugno del 1961 a new york e terminano appunto quest'ultima che vi ho letto il 23 gennaio a bombay se non sbaglio no sbaglio a nuova daily io direi di non aggiungere altro per non rovinare questo silenzio questa pace che ci ha indicato vi invito ovviamente a leggere questo testo e vi ricordo che noi ci vediamo domani sera alle 8 e 30 alle 20 e 30 per la rubrica la notte dei frati un abbraccio a tutti e buona giornata